Tribù rossa nera, amici del marietto, ma soprattutto amiche, buongiorno e buona domenica a tutte e a tutti in una domenica uggiosa, ma veramente, qua sta piovendo, che a Napoli direbbero piove a Bavrone, ma sta piovendo di brutto da stamattina qui a Barcellona, ragazzi, anche ieri aveva dato qualche lampo di gioia con un po' di pioggia, ma oggi piove di brutto veramente, quindi rimaniamo a casa. Che novità, ultimamente. Scherzo a parte, ragazzi, che comunque non è uno scherzo, sta piovendo veramente di brutto, oggi vi invito a partecipare su Facebook, dopo, al finale di questo video, vi lascerò le indicazioni, perché oggi sarò in diretta con un blogger di viaggi alle 5.30 che mi farà un'intervista, poi dopo, al fine video, ne riparliamo di tutto questo, ma passiamo al nostro Milan. Innanzitutto, ragazzi, Scaroni ha parlato. Scaroni ha parlato, sì, 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 è una notizia questa, ma davvero. Infatti, il presidente, cioè che io veramente penso chiamarlo presidente viene da ridere, perché se Scaroni è un presidente, Berlusconi che cos'era a suo tempo. Detto questo, allora, spiega a Lanza, in un'intervista, che il Milan è favorevole alla ripresa della Serie A, che bisogna terminare, secondo lui, ok? E perché? Perché il Milan, essendo una società di calcio, la sua vocazione è giocarci. Ma va? Mi ha illuminato con questa affermazione. Se ci sono i presupposti di sicurezza e salute, siamo a favore della ripresa della stagione agonistica e sportiva. Ragazzi, che mi hai detto di nuovo in tutto questo Scaroni? Eh, lo sapevamo, cioè, se ci sono le condizioni per riprendere, bene, però non i magheggi che vogliono fare in questo momento, di cui ho sentito anche con la FIGC, in collaborazione anche con l'Associazione Italiana Calciatori, Calcagno, il vicepresidente, già lo dicevo ieri, è favorevole, di continuare un campionato, però spostando le partite al centro-sud Italia. Non ha senso, ma non ha senso. Poi lo fai anche a porte chiuse, ma che cacchio di campionato è? Cioè, se già tempo fa dicevo che era falsato, adesso ancora lo è di più, quindi non ha senso. Chiudiamolo qua, se dobbiamo andare avanti in questo modo, e da settembre a ottobre ripartiamo con la proposta che ho detto, un campionato a 22 squadre, dove quest'anno non facciamo retrocedere nessuno e facciamo salire Benevento e Crotone dalla Serie B e per un anno faremo un campionato così, faremo retrocedere le prossime 5 l'anno prossimo, così poi dalla Serie B dovranno ritornarne su altre 3 l'anno prossimo. Ma non facciamo, cioè, tutte ste boiate, cioè, quello che sta succedendo in Italia come col governo, ogni giorno escono fuori delle boiate una peggio dell'altra. Usiamo un po' di criterio. Ma passiamo alla notizia bomba, veramente, ragazzi. Dalla Spagna, dalla Spagna, che poi è stata anche ripresa, ho letto stamattina dall'edizione odierna di Sport Mediaset su Italia 1, il Real Madrid è seriamente intenzionato a comprare Gigio Donnarumma, per una quota che non va al di sopra, chiaramente, dei 50 milioni di euro. Questo perché? Perché l'annata tanto di Courtois, che è il suo secondo che è in prestito dal Paris Saint-Germain a Reola, che ha fatto una manciata di partite, questo anno ha giocato quasi niente, non ha convinto i quadri dirigenziali del Real Madrid, ma soprattutto Zizou Zidane, che veramente è deluso dal rendimento di questi due portieri. Quindi, visto che Gigio da sempre è stato un suo pallino, vogliono veramente mettere sul piatto questi soldoni per Gigio. Chissà che, a parte questo, non si possa fare un eventuale scambio con qualche pedina, qualche giocatore tipo Modric, per dire un nome, che potrebbe anche rientrare e far comodo al Milan. Però è tutta una situazione in evoluzione. Già ne parlava anche Marca qualche giorno fa, però anche lì ho detto, fammi stare zitto, aspettiamo che la cosa esca di uscita oggi su Sport Mediaset. La Juve sembra già defilata, perché comunque rinnoverà a Gigi Buffon almeno fino a 70 anni, questo se no, veramente, io non ci rio su, però sembra che veramente voglia rinnovare su Buffon. E sul discorso di Donnarumma, sembra che Raiola non voglia neanche sedersi al tavolo delle trattative. Non si è intenzionato a trattare con Milan, se comunque i quadri dirigenziali e le prospettive di questa società siano quelle che tutti conosciamo con Elliot e Gazzidis. Quindi, questi 50 milioni che chiede il Real, attenzione perché potrebbe mettersi in opera anche il Paris Saint Germain di Leonardo, che sarebbe disposto già, come in tempi non sospetti se ne parlava, il portiere e il cartellino Areola, che a me sinceramente che ci interessa e ci frega, danno gli altri 20 milioni al Milan per prendersi Gigi o Donnarumma. Se il Milan fa una roba così veramente è da tagliare il collo a Gazzidis direttamente, a parte tutte le altre cose che già sappiamo, cioè non avrebbe alcun senso. Che tu vendi Gigi o Donnarumma per 50 non abbiamo bisogno, anche ho sentito andare a cercare Musso dell'Udinese, ma a cosa ci serve? A cosa ci serve? Abbiamo già Plizzari, ritornerà dal prestito della Stoneville anche Reina, cioè a che ci serve andare a cercare un altro portiere? Se 50 milioni è meglio che si rinvestano laddove ne abbiamo bisogno, o su un centrale di difesa, su un centrocampista, su un laterale destro in difesa, cioè cerchiamo di utilizzare anche in questo caso la testa. Non so voi, ditemi voi cosa ne pensate, però a sto punto non ha senso. E per concludere l'altra bombetta arriva sempre dal Paris, da un quotidiano francese Les deux sports, dove dice che Leonardo avrebbe messo gli occhi su Ismaël Benassère, tanto da aver già contattato il suo entourage, però i rossoneri non lo cederebbero per meno di 30 milioni. Ditemi voi che cacchio serve in questo momento a vendere Benassère. Quanto in più di un'occasione abbiamo parlato che deve far parte di un'ossatura, da metterci poi altri elementi al lato per far migliorare questo Milan che già stava prendendo un suo scheletro adesso con Pioli, con l'arrivo di Ibra, Rebic che si è ripigliato, Castiglieco che si è ripigliato. Mancano dei puntelli, però tu non puoi adesso smantellarmi una squadra anche lasciando fuori uno come Benassère e vendendo uno come Benassère. Non sta né in cielo né in terra. Quindi ragazzi ditemi voi cosa ne pensate di questi due movimenti, se vendereste a Gigio Donnarumma a queste condizioni. Lo stesso Benassère, a me come si sarebbe a Napoli, ma varana strunzata. Per Gigio ok, ma Benassère manco morto. Quindi niente ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video, like, iscrizione al canale con campanile accesa per non perdervi nessun video che entra nel tubo del Marietto. Condividete che è importantissimo i miei video nei vostri social. Vi avviso che ho aperto nel mio Facebook la pagina di Marietto Milanista, quindi chi vuole può anche venire a chiedermi di entrare dentro in questa nuova pagina. Oggi vi aspetto alle 5 e mezza in live con Francesco Tessarolo, un blogger di viaggi su Facebook e vi lascerò in basso il link in descrizione e dal vostro Marietto Milanista, sempre con il mio cuore rosso nero. Forza Milan, ovunque e comunque, e forza ragazzi, cerchiamo di tenere botta perché presto usciremo di casa veramente e dovremo anche fargliene sentire 4 a quei 4 qua 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 che governano e quegli altri 4 che sono all'opposizione. Buona domenica a tutti, un bacio con il mio cuore dal Marietto. Ciao ragazzi e ragazze chiaramente.